Ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video, oggi video post EICMA, ci ho ragionato un po' su come fare questo video, ho voluto portarvi un video diciamo post EICMA dove voglio darvi un po' le mie impressioni tanto che magari vi faccio vedere anche qualche immagine registrata in fiera un EICMA quest'anno sicuramente è stato pieno di novità e tra le novità anche qualche ritorno tipo BMW, Harley Davidson, KTM che sono finalmente ritornate in fiera a Milano per farci vedere le novità, BMW che ha portato appunto a farci toccare con mano la GS 1300 Aventure, finalmente siamo riusciti a toccarla con mano, spero presto di poterla anche provare, come spero presto di provare anche la, sempre in casa BMW, la GS 400, una moto che arriva per andare un po' a concorrenziare con con le altre varie case che stanno uscendo con questa tipologia di moto, ovvero l'avventuring di media bassa cilindrata 400, 450 quindi moto facili, moto leggere per fare anche qualche qualche chilometro in off-road senza diciamo avere troppa paura e troppo peso da portarsi in giro quindi moto leggere, moto appunto che possono darci soddisfazione anche nel fuoristrada appunto presenta questa GS 400 BMW che va a mettersi appunto in quel segmento che sta evolvendo davvero molto bene, vedessi la CF moto 450, vedessi la 450 rally della Cove e tante tante altre moto di quel reparto, di quel segmento che comunque stanno uscendo, ad esempio Mondial ho visto una bella novità la MAD 450 sempre in quel segmento adventuring ma se avete avuto modo di vedere qualche qualche chicchetta in giro per EICMA ad esempio c'è anche Benelli che c'è una 300 di quel segmento lì che ha portato una moto, un concept che secondo me è stato un po' ignorato da tanti tanti content creator o comunque giornalisti che sono andati là ma secondo me non l'han vista quella Benelli 300 che vi farò vedere nelle immagini, secondo me è molto interessante vedremo, speriamo magari anche di poterla provare comunque il titolo del video se avete visto ho voluto farlo un po' per provocazione provocazione ma non troppo perché ho voluto mettere invasione cinese ma io penso che questa invasione cinese che vediamo tutti i giorni ma non solo nel settore moto in tutti i prodotti ormai che abbiamo in casa dirò 70, forse 70 dire poco ma 70 80 per cento di tutte le cose abbigliamento, tecnologia secondo me l'80 per cento degli oggetti che abbiamo in casa è MAD in Cina quindi abbiamo visto quest'anno ma ormai da qualche anno a questa parte sempre più moto sempre più novità, sempre più case cinesi che stanno arrivando capostipite diciamo di questo arrivo della Cina nel mercato è stata Benelli che ha venduto varaghe di moto con la sua TRK 502 e adesso sta andando sempre a aggiornare ovvero è arrivata la 702 adesso quest'anno presentato la 900 quindi si sta sempre più espandendo nei segmenti di mercato che le mancano e in più ragazzi stiamo vedendo sempre più appunto marchi anche italiani però di proprietà cinese vedici moto Morini che ha avuto grande successo con la Xscape 650 quest'anno vedremo in commercio la Xscape 1200 vedremo un po' che prezzo arriverà ma anche lì una moto Morini che va a presentare anche tutte le varie sue moto Naked arriva a presentare una moto sempre nel segmento di medie cilindrate ovvero la Trike 450 quindi vanno sempre più ampliare la loro la loro gamma di modelli e vanno sempre più a dar fastidio secondo me le case europee giapponesi soprattutto a livello di prezzo perché vediamo che i prezzi sono molto ma molto concorrenziali di queste moto made in Cina che poi made in Cina ma se stiamo lì a vedere il know-how che hanno in Cina ormai è paragonabile a mio avviso al know-how che hanno le case giapponesi e europee facciamo un esempio a moto Vodge ragazzi la Vodge sappiamo per certo che il loro motore 900 è lo stesso che monta la BMW 900 GS quindi abbiamo visto l'anno scorso che sono usciti con la Vodge Valico 900 che è comunque un bel prodotto e quest'anno abbiamo visto in casa Vodge appunto una 800 Rally una Vodge 800 Rally diciamo un po' più spinta verso l'off road diciamo nel segmento della Yamaha Teneree una moto a mio avviso molto ma molto interessante da provare però come ho detto ormai a mio avviso la qualità delle moto prodotte in Cina è sempre ma sempre più paragonabile a moto europee e la differenza ragazzi sta nel prezzo quindi penso che questa invasione cinese nelle nelle moto sia sicuramente da un lato un bene perché va a far concorrenza sul lato prezzo e magari perché no vedere un abbassamento dei prezzi anche dalle case europee e giapponesi sarebbe secondo me ormai arrivato il momento di abbassare un pochettino i prezzi per andare a rubare un po' di fette di mercato moto cinesi Cina, l'invasione della Cina che non arriva solo nella moto ma anche in tutte quello che è anche gli accessori vedi borse moto vedi abbigliamento vedi ormai ragazzi se voi andate se siete stati a ECMA penso che tutti gli anni che sono passati da quando ormai vado saranno quasi dieci anni che vado a ECMA a fare a guardare a vedere sono sempre state sempre 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 un aumento appunto degli espositori cinesi quest'anno erano davvero tantissimi e sono sempre sono sempre di più questo porta più concorrenza alle case europei che che credo che dovranno anche un po abbassare come ho detto anche prima un po abbassare i prezzi per fare concorrenza queste questi prodotti questi prodotti che come ripeto sono sempre più interessanti e secondo me anche abbastanza fatti bene ho avuto modo di provare l'anno scorso la Cove 800 Rally Rally Pro che a mio avviso da come era stata presentata l'anno scorso l'anno scorso a ECMA l'anno scorso secondo me è arrivato un prodotto molto valido era stata un po buttata lì un prototipo un po messo lì a caso ma secondo me Cove sta facendo dei bei prodotti a livello a sotto quell'aspetto lì considerando che è anche una casa nuovissima ma anche tutte le altre case benelli che ha dietro QJ motor la voge la CF moto che collabora con KTM è uscita con la CF 800 MT quest'anno abbiamo visto il modello che sarà commercializzato moto secondo me molto accattivante che va diciamo a affiancarsi con la CF 800 normale e che va a rendere più appunto più aggressivo sotto l'aspetto fuori strada anche quel modello lì che per me secondo me è uscito un'ottima moto motore il motore che monta è un 790 della KTM quindi ragazzi stiamo vedendo sempre più novità che vanno a dare da fastidio anche alle case europee KTM ha presentato anche lei una moto 390 un treno KTM 390 adventure per entrare nel segmento appunto delle medio cilindrate da avventuring passiamo un attimo a sozuki che è la mia moto ma ha portato anche lei una novità molto interessante che sono le DRZ 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 S che è puramente da fuori strada diciamo e anche questa che strizza l'occhio ha dall'avventuring e la moto sempre DRZ SM ovvero la motard comunque molto interessante anche questa da provare speriamo di provarla presto e niente io spero ragazzi che questo video vi sia interessato un po' un video post editato post editato post prodotto vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale cosa molto importante e niente speriamo di portare presto dei test ride di queste novità presentate ad EICMA e riflessione sul made in Cina che spero vi sia vi sia gradito e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao